Due mazzette di carte, uno per te, uno per me. Guardiamo dietro la schiena. Qui dietro la schiena vai a scegliere una carta, quella che vuoi. La tiri fuori, la appoggi qui per me. Oh, questa è la carta per me, quella è per te. La metti nel mazzo, girata, a faccia in alto, in un punto che preferisci. Ci sei? Sì. Ok. Le carte davanti. Attenzione. Apri le carte. La carta che io ho davanti, corrisponde esattamente alla carta che tu hai dato a me. Che meraviglia. Sono tutte uguali. Ah, senti, sono tutte uguali le carte? Ma perché hai ragione, guarda. Le carte sono tutte uguali. Tutte uguali. Ma sono diverse da queste. Così.